Siamo qui al forum del legno arredo dove tra i vari argomenti c'è anche quello delle costruzioni e a noi sta molto cara giustamente Made, la fiera delle costruzioni dell'edilizia. Tra i temi caldi c'è l'internazionalizzazione, c'è stata anche la presentazione a Mosca nei giorni scorsi. Come va la preparazione di Made 2013? Da parte delle aziende credo che abbiano molte aspettative, il mercato in Italia è veramente fermo per cui tutti si stanno organizzando, si stanno preparando per questo appuntamento e ci auguriamo che sia il più internazionale possibile. L'appuntamento ormai è quasi quale soglia, per cui credo che ogni azienda sta mettendo in piedi ogni risorsa e ogni proprio saper far bene le cose in modo da presentarsi al meglio. Ci auguriamo che le aspettative siano accompagnate da un forte flusso di visitatori stranieri. Il presidente Negri ci diceva che l'obiettivo sono 100.000 visitatori, voi ve li aspettate questi visitatori, nel senso che è la vostra valvola di sfogo? Ma assolutamente sì, io me ne aspetto anche di più. Se devo essere sincero, se è vero che il mercato italiano è un po' in crisi, il mercato immobiliare, in alcune aree del mondo il mercato immobiliare è in forte, fortissima crescita per cui abbinato a una buona politica di promozione della fiera credo che si possa sperare di avere parecchi visitatori esteri. La nuova formula della specializzazione dei saloni, secondo lei, sarà un altro motivo di successo della fiera? Io ho assistito molto su questo, perché soprattutto una fiera è fatta per i visitatori, non per gli espositori. Per cui più gli elementi forniti a un visitatore di decisione, di orientamento e di valutazione quali sono i prodotti a vedere, più è chiaro, più ovviamente agevola e fa la qualità della fiera stessa, per cui mi auguro che con questa settorializzazione sia facile per tutti i visitatori andare a cercare i prodotti che cercano.